salve a tutti wachikabari e benvenuti in questo nuovo video recensione oggi voglio parlarvi di un film western sapete tutti quanti cos'è il west e i cowboy lo sceriffo capito sì io da bambino mi sono guardato molte volte invece fievel conquista il west e l'ho rivisto ieri sera e devo ammettere che mi ha annoiato troppo già ma l'argomento di oggi non è questo anzi è rango rango è un film del 2011 della nickelodeon diretto da gor verbinski e fu un successo di critica vinto un casino di premi vincitore del premio oscar come miglior film d'animazione e nel cast ufficiale è proprio l'attore johnny depp famoso per aver fatto periodo di caraibra dare la voce al protagonista ok rango inizia con un camaleonte che passa la sua giornata dentro una boccia di vetro però a causa di un problema finisce fuori dall'auto durante il viaggio e arriva sulla strada lì conosce l'armadillo carcassa che lo indirizza verso la città di polvere il problema è che questo camaleonte non sa niente del deserto ti scappa sta male e grida e sì il film è parecchio comico molte volte e poi incontra anche questo rospo che i due provano in tutti i modi a fuggire perché un falco vuole catturarli ma alla fine il falco prende il rospo mi senti poi il culo là non lo so penso che muore vabbè ma il giorno dopo rango incontra l'iguana del deserto borlotta io l'ho sempre trovato un po inquietante soprattutto con quei occhi enormi che è un po strana forse sono i capelli non lo so e sì rango arriva una città di polvere e scopre che è arrivato in un posto dove ci sono gli seriffi la banca e gente strana e ovviamente lui viene definito come lo straniero sì perché lui è strano è strano ma rango dopo che è entrato in un bar decide di definirsi una specie di eroe sapete lui ha ucciso i fratelli jackins con una sola pallottola se non erro e quindi la gente inizia a pensare oh mio dio allora è veramente un eroe e quindi rango viene sfidato da questi criminali teppistelli che lo vogliono appunto uccidere però rango non è che sia un grande esperto di pistole sì ci sono anche le armi qua ma poi arriva questo falco che vuole uccidere rango ma tranquilla ragazzi che con un grande colpo di fortuna botta di culo rango sconfigge il falco non mi ricordo se lo ammazzo o lo manda via comunque e perciò viene nominato il nuovo sceriffo della città di polvere esattamente anche se rango non ci capisce un bel niente cioè ecco esattamente ma comunque il camaleonte scoprirà che la città di polvere si chiama in questo modo perché da tantissimi anni l'acqua non c'è più scarseggia poi fanno addirittura una specie di rito per farla arrivare una roba assurda e sì tutto questo glielo dice il sindaco che è una tartaruga in sede a rotelle ma all'improvviso la banca viene rapinata e quindi rango in compagnia di suoi amici nuovi alleati vanno 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 e arrivano in questo canyon dove c'è questa enorme famiglia di animali che guidano i pipistrelli come è andata a questo vecchio con un naso molto brutto che una volta che appare oh mio dio ma dopo di che eh ragazzi la città viene spaventata a morte dall'arrivo di jake sonagli il serpente più figo che abbia mai visto è stupendo e ogni volta che appare è fantastico anche se c'è solamente verso la fine e proprio lui arriverà da tutti quanti che l'antarango è un bugiardo lui non ha ucciso i fraccelli jackins non è veramente un vero cowboy non è nessuno un camaleonte così e basta e rango viene bandito dalla città ma dopo aver camminato per miglia e miglia rango incontra lo spirito del west che dice tu prima non eri nessuno eri semplicemente un camaleonte adesso hai trovato delle persone la gente è in pericolo torna in città di polvere e salvali quindi si rango decidi di tornare indietro per affrontare jake sonagli e i criminali maledetti è veramente c'è un combattimento finale divertente drammatico forse con una musica sottofondo cioè è veramente bellissima quello che rende rango il perfetto film western di tutti è l'animazione lo spirito eccetera seriamente ragazzi un film divertente che ti prende inizio alla fine bello non annoia mai e ragazzi i personaggi sembrano realistici cioè seriamente jake sonagli sembra davvero un vero serpente pure pure rango il problema che non ho mai capito è per qual motivo la volpe è grande come il coniglio perché cioè what the fuck comunque io ve lo dico ragazzi se avete mai visto rango vedetelo merita tantissimo la visione lo trovate su netflix dura un'ora e cinquanta minuti bello bello davvero film west fantastico rango rango